Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni, chiacchierata su come sarà il tempo di questa settimana e soprattutto su che temperature raggiungeremo, perché il caldo sarà davvero protagonista. Intanto partiamo dall'immagine del satellite, poche nuvole sull'Italia, il tutto per effetto di un'area di alta pressione che si è posizionata proprio sul Mediterraneo e sul nostro paese, per diversi giorni terrà lontane nuove perturbazioni. Lo vediamo anche da quest'altro schema, ecco quest'alta pressione di cui vi parlavo, favorisce un rialzo delle temperature che andranno oltre i 30 gradi all'ombra in diverse zone del centro-nord. Caldo che si intensificherà in settimana, nelle giornate del 19-20 raggiungeremo punte anche di 32-34 gradi sul Mediterraneo occidentale e coinvolta, come vedete, in pieno anche tutta l'Italia. Forse le estreme regioni meridionali riescono a sentire un po' di aria più freschina, ma davvero il caldo sarà protagonista un po' ovunque. Caldo anche nel fine settimana, anche se nel weekend correnti umidi atlantiche cominciano a scendere un po' di latitudine, ma per il momento anche nel fine settimana temperature sopra la media. Allora vediamole queste temperature con alcune giornate. Ad esempio, giornata di mercoledì con punte massime al centro-nord, come vedete, anche oltre i 30 gradi e questi sono i valori all'ombra, quindi figurate voi al sole. Al sud qualche grado in meno, ma anche al sud, insomma, maniche corte e pantaloncini corti. Tanto salgono anche le temperature notturne. Giornata di giovedì, un altro esempio in più per vedere come le temperature massime al centro-nord continuano a rimanere anche oltre i 30 gradi. Qualcosina in meno, ancora una volta, al sud, ma comunque clima sempre molto mite. Infine, un'occhiata anche alle temperature del weekend, che dicevamo per il momento rimangono molto alte. Addirittura potremmo sfiorare i 35 gradi all'ombra nelle regioni settentrionali. Staremo a vedere. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.